Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6. Nel corso di questo mercoledì ci aspettiamo un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il sud per effetto del rinforzo dell'alta pressione delle azzorre che regalerà una settimana complessivamente stabile e soprattutto molto nita a tratti calda nelle aree interne dell'Italia, soprattutto al centro e al nord. Per quanto riguarda questo mercoledì un po' di instabilità residua al sud, perlopiù sui monti, sull'Apenino Calabrese e anche in Sicilia e in Abruzzo. Si prospetta una giornata tardo-primaverile con cieli sereni su tutta la regione. Qualche addensamento pomeridiano in montagna, qualche rapido acquazzone, ma davvero di poco conto, prevarà il sole su tutto l'Abruzzo. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime, come potete osservare tra 20 e 24 gradi, minime tra 8 e 14 gradi. Ventilazione debole a regime di brezza. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona giornata.